Non ho abbastanza informazioni su per la persona, ok? Beh, beh Non ho registrato, io mi ho vedi che è complicato fare questi video Non si vede un crush Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, come avrete letto dal titolo Oggi vado a truccarmi seguendo ogni passaggio che la realtà artificiale mi suggerirà Allora, so che questo video è già stato fatto nel niente di nuovo Però mi sembrava un'idea carina Io sono un boomer, quindi lasciate l'hashtag boomer Non sapevo cosa dovevo fare, cioè dove dovevo andare, a chi dovevo chiedere Dov'è questa realtà artificiale Ma devo sollecitare per una fattura, ancora Ok, praticamente ho visto fare questi video dove c'è tipo una sorta di dialogo Fra l'utente e la realtà artificiale Che va a consigliare gli step adeguati alla propria tipologia di pelle Con addirittura prodotti eccetera eccetera Cioè questo è una roba molto veramente precisa, tagliata a cecchina Quindi la voglio provare, totale Allora, vi vieterò qui a fianco il registro a schermo Se l'idea vi piace ovviamente lasciate un like Perché secondo me sarà abbastanza lunga da fare Allora, ciao Vorrei truccarmi Gli do le mie info, tipo la pelle mista Carnagione medio chiara E poi medio chiara, capelli e occhi castani Hai qualche prodotto da suggerirmi Voglio vedere se proprio si riesce a darmi in maniera molto targetizzata I nomi dei prodotti Sperando di averli Perché questo secondo me è la cosa divertente Ciao Ah vedi mi faccio proprio l'elenco E si possono scegliere diverse bozze in realtà sto vedendo Ma io voglio una roba Forse in realtà non dovevo chiedere gli ai qualche prodottore a suggerirmi Perché lui parte diretto Come vedete già inizio Rifacciamo da capo Incolla, grazie Ok Io ho detto semplicemente ciò Voglio truccarmi una pelle mista Carnagione medio chiara Capelli e occhi castani Vediamo lui che cosa mi O lei O loro Ok Carnagione fondotinta Scegli un fondotinta leggero e non comedogenico Castabella l'alene in eccesso Un correttore allunga tenuta che copre in perfezione occhiai Una cipria traslucida che fissa il trucco e lo rende opaco Blush Mi ha fatto la descrizione Un ombretto marrone chiaro Quindi chi vuole i trucchi colorati si spara Oh oh Un ozzola per creare un look naturale Un ombretto marrone scuro per uno smoky Eyeliner Mascara nero che allunga in curva Rossetto Ecco alcuni suggerimenti Inizio applicando un primer su tutto il viso Per preparare la pelle Il trucco per farlo Che Primer Posso Usare Per i pori Così facciamo così Perché Quindi mi ha fatto tipo un escurso Su quella che è Che sono gli step del make up Per poi dirmi Tutututututu Ok perfetto Ecco alcuni dei migliori primer per i pori E mi cita Hourglass Laura Mercedes Smashbox Benefit NYX Quando scegli il mio primer per i pori Bla 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 La pelle grassa è meglio scegliere Un problema è opacizzante Inoltre è importante applicare il primer correttamente Dopo aver pulito e aderrottato la pelle Fatto Applicare una piccola quantità di primer su tutto il viso Stendolo con movimenti circolari Evitare di applicare troppo primer Perché poi risulta più ciecoso Di questi potrei avere benefit Vediamo Allora l'unica cosa che ho trovato di primer Questo qua è sempre di benefit Della linea professional Però in versione leggermente più idratante Io lo diremo Spero che non si arrabbi È un botto che non utilizzo questo primer Allora lui diceva di applicarlo E sfumarlo con movimenti circolari Non sono molto d'accordo su questa cosa Devo dire Preferisco Comunque prima mi sono fatto un giro Perché onestamente non volevo Sorprese E ho visto che Adesso non riesco a capire Se ci sono degli accordi commerciali Dietro questa cosa qua E una parte dei brand Ma suggerisce tantissimo Sempre i stessi brand Che sono L'Oreal Revlon NYX E Maybelline Sono quelli che suggerisce di più in assoluto Ma allora Questo ragazzi vi devo dire Nasce come primer opacizzante idratante Io non lo vedo così idratante Però vabbè Vorrei andare direttamente a chiedergli Fondotinta, correttore e cipria Mi consigli un fondotinta Correttore e cipria Per una base sottile Ma duratura Così almeno Non ci leviamo tra i prodotti Perché sennò Siamo notte Scegli un fondotinta leggero Queste sono le pupa Penso che intendo cipria Morto Non credo sia Si vede che Questo brand È sperimentale Perché ogni tanto Ha tipo delle righe in mezzo Il testo Così Feedback da boomer Vedi Fondotinta L'Oreal Infallible Fit Me Maybelline Revlon Color Stain Non ho nessuno di questi tre Di nuovo Correttore Maybelline L'Oreal Revlon Non ho nessuno di questi tre Cipria Mi consigli Fondotinta Io l'odio Correttore E cipria Non L'Oreal Non Maybelline E non Revlon Tiè Ma mi vedi Ah eccoci qua Certo alcuni consigli Per fondotinta Correttore Belli Questi mi piacciono Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation Max Max Mac Studio Fix Nars Sheer Glow Oggi usiamo Lo Sheer Glow Che sono anni Che non lo uso Correttore Tarty Shape Tape Naked Skin Di Urban Decay Non ce l'ho Benefit Boy Industrial Strength Concealer Cipria L'Oreal Mercier Charlotte Perfetto Questi mi piacciono Molto Credo che andrò a scegliere Ve lo faccio vedere subito Questi sono molto belli Bravo Allora Sicuramente Se non è comedogenico Qualcosa mi viene Perché È uno dei fondotinta Più vecchi Che ho Devo assolutamente Ricomprarlo Però utilizziamo Il Nars Sheer Glow Nella tonalità Punjab Veramente Vi dico Guardate questo video Lasciate like Perché proprio La texture Secondo me È un po' più densa Però lo segnalo Da Devo andarmi A fare un giro Su Stefano Da Stefano Il negozio E Lo vado ad applicare Diceva Per quanto riguarda Ma Però è sempre bellissimo Ma perché Ti amo Pazzesco Comunque per quanto Riguarda la stesura Del fondotinta Dava proprio Delle idee chiare E quindi Erano La classica applicazione Col blender La chiamo Il maschile Penso Perché tipo Come tools Che poi suggeriva Il pennello Non mi usiamo Il pennello Che perché Lo Sheer Glow Comunque vi posso dire Per foro Questo qui Ci avrà la mia età O comunque L'età Dei miei social Quindi sicuramente 4-5 anni E Vi devo dire Non funziona meglio Di loro Funziona meglio Di fondotinta No Questo me lo devo Assolutamente Prendere Allora Avevo letto In uno scorso video Che Qualcuno voleva Del look colorato Oggi faremo Lui Chiederò Proprio La realtà artificiale Di Crearmi Un look colorato Vi ho avviso già Che se mi fa fare Un rainbow Tipo rosso Verde Viola Dico Perché va bene Tutto Ma non mi piace Però vediamo Fin quanto Può essere creativa La realtà artificiale Vi posso dire Questo fondotinta Io Faccio bene Ad amarlo Poi andiamo Col Industrial Concealer Non so cosa sia Io ho il Cakeless Boing Di Benefit Quello a forma Di matita Questa è una tonalità Che mandarono loro Si chiama Ginger Numero 6 Io sono una 5 Però Ho preso Un pochettino Di sole Nonostante L'SPF E non stia uscendo Molto Devo essere sincero Perché A parte che Non c'è più nessuno Qui Però Secondo me Potrebbe funzionare E Per farlo Funzionare A livello tonale Lo vado a sfumare Con il pennello Del fondotinta Per creare Una sorta Di transizione E lo picchietto Adesso Non so se Farlo Su tiktok Raga Su tiktok Penso che sarà Il social Dove pubblicherò Di più Quest'estate Perché Su instagram E youtube La maggior parte Delle persone Non ci sta molto Dietro Mentre tiktok Essendo che è più veloce Più Meno impegnativo C'è sempre più gente Connessa Quindi penso che pubblicherò Là molte cose E penso che farò Tipo la realtà Artificiale Decidere Ho la mia giornata Ho la mia skin care Qualcosa del genere Come cipro Ho deciso di utilizzarne due Quindi quella di Laura Mercier Un grande classico Anzi voglio fare Che Questa cosa che fa anche Omar Questo circo Di ciprie Prendo prima La compatta Di Charlotte Tilbury Molto contento Di averla trovata là Perché La amo Però non la sto più usando Spesso E La voglio usare spesso La vado a prelevare con il pennello E Fisso Questa ciprie Qua In sotto E di nuovo Qua Vado tamponando Randomico Sul viso Mamma che bella Questa cipria Sarà Iper scaduta Anche lei Non seguite me Per i paus Cadenze Eccetera Perché io mi scordo E poi Vado con Laura Mercier Dare un boost A questa zona Così almeno Ne utilizziamo due Allora io Se siete d'accordo Terrei sempre La clausola di No L'Oreal Maybe Anche per gli altri prodotti Ho tendenzialmente La base fatta A livello di creme Proseguiamo Con le polveri Mi consigli Un Bronzer Un blush E un Illuminante Per un Effetto Sunkissed Così lo mettiamo In difficoltà Cos'è Sunkissed Mi risponde Vediamo se è boomer O no Allora Certo Ecco alcuni Sottolineamenti Per un bronzer Brush Illuminante Per un effetto Sunkissed Bronzer Scegli un bronzer Di un colore Stimilato Incarnato Ma leggermente Applicalo Sui dati del viso Sotto le guance Lungo la linea Della mascella Scegli un blush Di un colore Rosato Pescato Applicalo sulle guance Sulle mele del viso Illuminanti Scegli un illuminante Di un colore Champagne Dorato Applico Sull'izzigomi Punta del naso Nell'angolo Intrano dell'occhio E sull'angolo Superiore Bronzer Mi da Nulla che io abbia No aspetta Nars Laguna MAC bronzer Too Faced Chocolate Soleil E che Mi tende a riproporre Nars MAC Too Faced Ora Quindi MAC Too Faced Becca Altri brand Ti piace fare i video Con i beauty lover No Bronzer E Bronzer Blush E Illuminanti Comunque è un dialogo fra sordi Questa chat Vorrei fare Contour Blush E Illuminanti Mi Consigli Dei marchi Da questo fango Non ci muoveremo mai Ve lo dico Nars Nars MAC Too Faced Fenty Anastasia Che Pagli Ciao Che Bronzer Posso Usare Nars MAC Too Faced Benefit Anastasia No Maria Io esco Allora Abbiamo avuto anche un qui pro quo Perché gli ho chiesto Ma perché mi consigli Sempre i soliti brand E qua Mi ha fatto sentire in colpa Sono ancora in fase di sviluppo Quindi che cose ho fatto Onestamente Io ho fatto dei cluttering Cerco di tenere sempre cose un po' più stuzzicanti Il che potrebbe essere anche un feedback Non ho né Laguna né MAC né ULA Quindi ho preso dei prodotti in base a quello che lui mi ha consigliato Quindi simile al mio incarnato il bronzer ma più scuro un blush pescato Quindi ho preso Di testa mia Sapevo che Questo è il mio carattere Pat È uno di quelli che in cialda è molto chiaro Quindi più vicino possibile al mio incarnato Però Comunque Penso che Intendesse una roba del genere Ora Qualsiasi look colorato andrò a fare Lo collego almeno verso la coda col bronzer Mi dispiace rega Però Effettivamente credo che Adesso io non studio queste cose né nulla Ma un po' come Tra l'altro rifaremo un episodio dei più sponsorizzati su Google È il primo brand che sa che paga di più Per fare ste robe Ora non so se è la stessa cosa anche per L'intelligenza artificiale Però Il fatto che all'inizio consigli sempre Maybelline, Revlon E L'Oreal Non lo so O forse magari sono i brand più acquistati Ai Giuro che Non lo so Però ecco Diciamo che Se io non facessi video beauty Sarebbe anche Fattibile Utilizzare i brand che mi consiglia Però nel senso Oltre a non averli È sempre la stessa roba Ho voluto cambiare Come blush So pesca di Viv Disgo Ho detto che volevo un blush pescato E diceva sulla mela E in su Verso l'esterno Ah il bronzer Sorry Anche qua Io ho la barba Però Ho notato che Se voglio dare drammaticità Non fatelo qua È qua Sorry Non voglio metterlo qua Quindi blush pescato Se le mie mele E verso l'alto Verso l'esterno Super super estivo Questo colore E poi mi consigliava Di applicare L'illuminante Questo di Kylie Della collezione Natalizia Sul Ponte del naso Tipo io per dire Lungo Tutta la lunghezza del naso Non lo farei Però vabbè Sullo zigomo Diciamo che Ne ho metto poco Ok E sull'arco di cupido Che è una cosa Molto 2016 Che però facevo anch'io In più Mi suggeriva Ancor prima Di avergli chiesto Il trucco occhi Di applicarne un po' Nell'angolo interno Allora Lo farò Però non ne metto Un chilo Perché sennò Che famo Passiamo alle sopracciglia Come posso Realizzare Anzi Che prodotti Posso usare Per realizzare Sopracciglia Folte Ci sono molti prodotti Che puoi utilizzare Per realizzare Sopracciglia Folte L'ombretto Ombretto per sopracciglia Un modo per riempire Le aree vuote E definire la forma Gel Gel per sopracciglia Tinta La tinta La tinta per sopracciglia Può aiutare A scurire Le sopracciglia A farle apparire Più folte O strumenti Per sopracciglia Formici Blablabla Quando scegli Prodotti di sopracciglia Ok Però io vorrei sapere Aiutami A truccare Le mie Sopracciglia Sto cercando di fare Una cosa Un po' più discorsiva Cioè Che prodotti Che prodotti Appunto Posso usare Certo Che tenero Posso aiutarti a truccare Le tue sopracciglia Eccolo con i prodotti Pennello Ombretto Gel forbice Pinzetta Ok Il stas Proprio Ombretto Che poi dice Pettina le sopracciglia Con una spazzola Per sopracciglia Questo ti aiuterà Meglio A vedere La loro forma naturale Di identificare I vuoti Mi sembra Top Ah Cioè Niente Devo usare L'ombretto Per sopracciglia Usa un pennello Per le sopracciglia Per applicare L'ombretto Nella direzione In crescita Dei peli Rimuovi Per i superflui Fissa le sopracciglia Con il gel sopracciglia Utilizza un pennello Per sopracciglia Per applicare Il gel Sulle sopracciglia Uso un colore Che corrisponde Al colore naturale Se i colori Troppo scuri Le sopracciglia Sembrano artificiali Non esagerare Con l'ombretto Un po' Riprodotto Va lontano Usa il pennello A punta fine Non utilizzare Una penzetta Troppo spessa Perché può indebolire I peli Uso un gel Per sopracciglia Trasparente Ok Non mi dà Dei prodotti Ma delle cose Da utilizzare Già che devo usare L'ombretto Per me è una challenge Allora Per farlo Quanto meno Non voglio usare Un ombretto Di una palette Ma uso Questa qua La Browsings Di Benefit Che ha Più di 800 anni Ma ha degli ombretti In polvere E cerosi Quindi Vado a utilizzare Il penultimo Uso il pennello Di Melissa Che Devo dire Che questo set È veramente Stupendo Allora Lo riempio Sto utilizzando Questo colore Qua Non l'ultimo L'ultimo Ma questo Ah Hanno anche Pennellini L'or Vabbè Uso questo E devo dire Che mi ha detto Di non esagerare Non fare troppo scure Il motivo per cui Mi sembra più corretto L'ultimo Ma non voglio fare Troppo scure Sennò mi cazzia E anzi Prendo quello Ancora più chiaro Per la mia Parti iniziale Giusto per Ti devo dire Che la nostra AI Ha fatto Un ottimo lavoro Dai io Non trucco mai Le sopracciglia Con l'ombretto Perché mi sembra Di avere Veramente poco Controllo Sulla forma Però Non potevo Dirle di no E poi Utilizzo Un gel Uso il lift and fix Di Nabla Che Per un effetto Pettinato Mi piace molto E vi posso dire Che Sono belle Non le spizzetto Perché sono già a posto Così grazie Ma sono molto bene Dai Ora passiamo alla parte Che mi preoccupa di più Ovvero L'ombretto Allora Vorrei cancellare Tutto lo storico Perché secondo me Ciao Voglio Creare Fare Creare Un Tococchi Colorato Colorato Che palette Di ombretti Cioè Più di così Mi consigli Boia Non le ho Però Anastasia Beverly Hills Narvina Pro Pigment Palette Giulia's Place Desulu Palette Poi un po' più Soft Morphe 35o Colourpop Urban Decay Allora Facciamo così Non ho registrato Questa cosa Comunque Gli ho chiesto Ciao Voglio creare Un trucco occhi Colorato Che parete Utilizzo Mi ha dato Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Palette Non è arrivato I rubinetti Juvia's Place Colourpop Eccetera Eccetera I diffusori Della doccia Ciao Voglio Ho gli occhi Castani Voglio creare Un make up Colorato Che colori Devo usare Così almeno Non uscire Così almeno Questo è il video Peggiore Che ne guarderete Di questo Cadevo Ciao Ecco alcuni colori Che puoi usare Per creare Verde Blu E viola Arancio Giallo Quando scegli colori Per il tuo È importante Considerare Il tipo di pelle Look desiderato Se hai la pelle Chiara Blablabla Con un po' Di pratica Imparerai Creare Look original Mi piace Questa selezione Colori Chiaramente Non li utilizzerò Tutti Di recente Ho usato Sia il verde Sia il viola Sia il blu Ma l'arancio Non lo voglio usare Il giallo L'ho usato Faremo Un viola E Blu O verde Viola E vi Oddio Ce l'ho Allora Forse avrei dovuto Realizzare Prima Il trucco Ma ok Allora Voglio utilizzare Questa Che è tipo Una delle mie Palette Presse Colorate Che è Michela Pathou Per Glamlite E vado a prendere Prima questo lilla Qui Che si chiama Mama Wang E lo vado A tamponare Lungo Tutta la mia Palpebra Questi sono Colori Secondo me Perfetti Da inner corner Ma Voglio giusto Un po' Di cornice A mio Make up Perché voglio Andare a utilizzare Un viola Super carico Quindi almeno Con lilla C'è un colore Che sfuma Il viola Nella pelle Questo è un pennello Di Primark Vi dicevo che Il set rosino È molto carino Comunque mi sto facendo Un po' Crescere la barba Ormai sarà un mesetto E ho I baffi Che mi entrano Nel naso È la cosa Più fastidiosa Del mondo Penso che L'accorcerò Sulle labbra Perché mi sento Sempre che Ho tipo Delle liane Che mi escono Nel naso In realtà Sono i baffi Che entrano Allora Tendenzialmente La forma è questa Ora prendo Invece Authenticity Questo qua Che è tipo Un viola Mega profondo E vado piano piano A costruire La mia intensità Perché Non voglio fall out E questo è un viola Bellissimo Io amo Queste palette di Glamlite Per Michaela Sono le mie palette Colorate preferite Perché hanno Una pigmentazione Giustissima Bella strong Sono facili Da usare Almeno io Mi trovo Serenamente bene E hanno Gli shimmer Della madonna Mentre le carnival Sono un po' secche Magari forse Sono un pelo Più pigmentate Le carnival Come opachi Ma sono più asciutti E gli shimmer Non sono così belli Secondo me Quindi Toda la vita Questi Adesso Risfumo Un po' Con lilla Stando verso L'esterno E ora La vita vera Voglio utilizzare Dreams Questo Il terzo verde Che è tipo Un verde Power Stupendo E così Facciamo la Cioè Facciamo la combo Wow Che ce l'aveva consigliato Cioè Ma vedete la bellezza Di questi Mamma Mi fai Fazzire Perché mi ricorda Troppo Tim Burton Come palette colori Io amo Tim Burton E i suoi film Wow Yeah Avete visto poi Con che facilità Si aggrappano all'occhio Sono pazzeschi Lo voglio un pelo più lime E quindi prendo Insane E lui Tipo questo Leggermente E lo vado A adagiare Piano piano Quello era più Un verde bottiglio Io voglio più Un verde Non acido Ma verde Wow Allora Purtroppo c'è stato Del fallout Ma me lo aspettavo Principalmente Dio shimmer Questi shimmer Secondo me Sarebbero La formula Perfetta Se fossero Leggermente Meno spessi Non spessi Meno Granulosi Insomma Però E voglio Mettere del nero Con Black is black Perché Michela Parla così Quindi tutto E vanno giusto Qui a Dare Non voglio fare Eiliner Ne niente Voglio solo Scurire Mamma raga La combo Viola verde Verde così power It's life Bene Faccio anche l'altro occhio E poi ci vediamo Per il masquara Wow Mi piace Un casino Bellissimo Cioè Bellissima la combo colori Su questo L'intelligenza artificiale Mi ha Spettinato Veramente stupendo E ora di scegliere Mascara Ora Che mascara Bello Strong Mi consigli Allora Laura Paris Lash Paradise Questo masquara è famoso Per le sue ciglia Lunga e voluminosa Incurbata Dior Show Iconic Cover curl Mascara Non ce l'ho Max Factor 2000 calorie Non ce l'ho Maybell Lash Sensational Sky Eye Non offre Nessun tipo di volume Non mi piace Lancome Monsieur Big Proviamo a cercare O Lash Paradise Non mi ricordo Melissa se me l'ha Declutterato Vi lascio il video Del decluttering Di Melissa Qui Oppure Il Lancome Si è big Arrivo Ok chiaramente Non li avevo Quindi Gli ho chiesto Altri Semplicemente E Mi era dato Una lista Più interessante Però era molto Specifico Tipo c'era Tarte qualcosa Tartist Qualcosa di Oh my god Uso Better than sex Di Too Faced Che mi ha consigliato Ed è un mascara Secondo me Stupendo Quindi lo Provo assolutamente Cioè Provo Lo metto Assolutamente Allora Poi in ultimo Gli ho chiesto Per un trucco Ho un trucco Viole verde Che rossetto Mi consigli Per un trucco Viole verde Ti consiglio Di utilizzare Un rossetto Neutron Nude Cosa che avevo Fatto anch'io Questo ti aiuterà A bilanciare i colori E a creare Un look armonioso Allora C'è Velvet Teddy Di MAC Dragon Girl Non ce l'ho Di Nars Potrei usare Pillow Talk Che non uso Da una vita Che tenero Se vuoi un look Più drammatico Puoi utilizzare Un rossetto rosso O un rossetto viola Tuttavia È importante Evitare di utilizzare Rossetti troppo chiari Troppo scuri Poiché Potrebbero far sembrare Il tuo trucco Troppo pesante Sì dai Sì dai Penso che Con Pillow Talk Di Charlotte Devo Mettere Una Matita Labbra Posso dire Un po' complessa La gestione Cioè nel senso Sai che devi portarvi Del tempo Però Non ho abbastanza informazioni Su quella persona Ok La mettiamo Non ho registrato Io mi ho vedi Che complicato Fare questi video Penso che La matita labbra Vada a mettere comunque Allora Come matita labbra Ho messo Pillow Talk Intense Giusto per rimanere Nella categoria Carlotta E ora vado a mettere Pillow Talk Che per me Questo rossetto Non vorrei dire Bocciato Ma Non è bocciato È tanto hype E lo posso usare Solo ed esclusivamente Con la matita È super chiaro La formula Majestic Che combo Meravigliosa Bellissima Allora amici Questo qui È il look terminato Allora devo fare Delle considerazioni Chiaramente Non è un tool Che io utilizzerei Non so neanche Se lo utilizzerò Mai più Devo dire la verità Però Devo dire che Se Avete dei periodi Creativi di noia Barra Non sapete Oddio Cosa indosso Oddio Eccetera eccetera Può essere Un spunto Uno spunto Simpatico Soprattutto L'ho trovato Molto carino Con la scelta colori Del tipo Ho gli occhi castani Che cacchio uso Alla fine sono colori Che stanno bene Con i miei occhi È venuto un look Pazzesco Secondo me E in generale Penso che possa essere Non vitale Ma Un divertissement Un po' Un passatempo Un guizzo Fuori dalla Routine Complesso È molto complicato Il dialogo Sicuramente Penso che lo consiglierei Più a chi Non è super Iper Sul pezzo Con i prodotti Che non ha particolari Esigenze Chi non vuole Che questo sistema Stravola Completamente L'idea che ha Quel giorno Perché comunque Ci sono stato Abbastanza dietro Per avere Dei feedback Che non fossero Banali Sempre i soliti Comunque no Perché alla fine Lo diceva anche Il sistema stesso Sono in fase Di sviluppo Creazione Be patience E gli ho chiesto Scusa Comunque sono molto soddisfatto Credite raga Se siete arrivati Alla fine del video E vi è piaciuto Soprattutto lasciate Un like E l'hashtag Boomer Bene Io sono molto felice Ci vediamo Al prossimo video Ciao